Allora, la manifestazione ha avuto inizio e sapete tutti voi siete già qui, però che la manifestazione è partita da due cortei grandissimi, ancora adesso per esempio dall'Anagnina stanno arrivando ed effluendo tutti gli amici che arrivano da tutta Italia. Il primo corteo è partito dal largo di Colli Albani, avvede la rappresentanza di tutte le regioni d'Italia, alla testa del corteo ci sono i nostri giovani della giovane Italia e abbiamo poi i governatori che stanno tenendo lo striscione di apertura con uno degli slogan di questa manifestazione, dal governo del fare alle regioni del fare. Grazie